Stai già suscitando un mare di polemiche l'inaugurazione di domenica mattina in cimitero a Miane della lapide in ricordo di 37 repubblichini e di un civile uccisi dai partigiani nella notte tra il 7 e 8 maggio del 1945 gettati nella grande Spinorcia, una foiba a due chilometri a nord di Combai. Una cerimonia subito contestata dal Lampi che con sindacati e esponenti della sinistra ha inviato questa lettera aperta al presidente del Veneto Luca Zaia. Reduci dell'RSI della Repubblica Sociale Italiana vanno a fare una commemorazione in un luogo dove sono stati poi ammazzati un sacco di partigiani, ma il grave è che l'amministrazione comunale manderà una propria rappresentanza. Comune guidato dalla Lega, sottolinea Varnier, chiedendo al governatore di intervenire politicamente sulla vicenda. Hai preso delle posizioni interessanti, importanti contro la Shoah, contro la barbarie fascista e lo hanno fatto anche altre amministrazioni di quel segno. E però poi nello stesso tempo ti tieni in giunta una come la Donazzan e poi hai amministrazioni come questa di Miane che fanno queste cose che per noi sono una offesa alla Repubblica, alla Costituzione e alla lotta partigiana. E già si pronuncia una domenica ad alta tensione nel territorio di Miane perché Lampi non starà a guardare. A Campea, dove c'è il monumento a partigiani impiccati e uccisi dalla decima mas, saremo presenti, porteremo un mazzo di fiori e non solo Lampi ma quelle associazioni che hanno firmato la lettera aperta a Zaia.